Le abbiamo smascherati perché alla domanda secca riapriranno i punti di primo intervento, la risposta è stata non si sa quando ed è una battaglia che continueremo a portare avanti insieme agli amministratori e ai sindaci e alle nostre comunità. È un fatto molto grave perché continuano nel silenzio generale della maggioranza a perpetrare tagli, in questo caso sulla rete di emergenza-urgenza, una rete fondamentale per quanto riguarda la Marsica e ovviamente tutto il territorio. Per quanto riguarda le transazioni e l'impugnativa del Consiglio dei Ministri? Abbiamo vinto quella battaglia, noi l'avevamo detto, non è possibile che nel mentre aumentano gli stipendi dei manager, dei direttori, dei dirigenti, compreso gli arretrati, la Giunta si ripristina i rimborsi, concepiscono una norma per far arrivare 162 milioni di richieste transattive di cui quasi 110 sulla sanità e che sarebbero andati a sottrazione delle prestazioni di cura per quanto riguarda le persone, per i tempi d'attesa, per tutte le prestazioni sanitarie che riguardano questa regione. Una sottrazione secca al Fondo Sanitario Regionale, una vera e propria vergogna per la quale abbiamo fatto denuncia presso tutti gli organi, anche la Procura della Corte dei Conti e ovviamente il MEF ci ha dato ragione, oggi Marsilio di fatto presenta un disegno di legge progrativo che dà ragione a noi della battaglia fatta.